Ecco le tre piccolette, lasciate uscire, sono in azione, tutte e tre, la Hollipop e l'Aidi, Hollipop gli piace un sacco, l'Odino, il nostro robottino, ci hanno paura di nulla. Guardate come si divertono, che hanno dormito fino ad adesso, noi ci abbiamo lasciato uscire, sembrano dei grilli. Ma i giochini dove ce li avete? Dove siete andate a finire bimbe? Eccola! Eccola! Dov'è l'altra? Eccola! Odino lo stendino, per forza, perché con la pioggia di oggi solo dentro si poteva mettere. Allora, vi diamo un saluto, buona serata da Hollipop, Aidi e Amameris.